Cambio di programma nella visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Caltanissetta, infatti non sarà più il Teatro Regina Margherita ad ospitare la seconda parte della visita del Premier, bensì il Centro Polivalente Michele Abbate, la decisione dopo una lunga riunione tra i vertici del Piedì ed il Sindaco, la responsabile del cerimoniale che pare abbia fatto le barricate perché la visita non è considerata istituzionale o meglio abbastanza istituzionale, ma di promozione referendaria per la campagna e dunque non si può concedere il Teatro Comunale per regolamento e nessuna iniziativa di carattere politico. Ed allora il PD ha optato per il Michele Abbate, tra l'altro la Prefettura non avendo ricevuto comunicazione ufficiale per la seconda parte della mattinata del Premier in città non ha concesso tra virgolette il marchio dell'istituzionalità. In realtà la visita, così come congeniata, resta un ibrido tra l'istituzionale ed il politico. La prima parte infatti è dedicata alla CMC, alla firma del protocollo e la parte istituzionale. Invece l'altra, quella che riguarda il sì, è più politica, ma non completamente. Infatti durante il faccia a faccia con il Sindaco Renzi ascolterà sei sindaci siciliani che parleranno della loro esperienza nella nostra terra e sarà inoltre accompagnato dal ministro Galziano Del Rio e dal sottosegretario Davide Faraone. A parlare per i sindaci della provincia sarà Giovanni Ruvolo. Secondo il principio della concessione del teatro, un altro problema si staglia all'orizzonte. Infatti sabato 26 al Teatro Regina Margherita ci sarà un altro incontro per il sì che ospiterà Pier Ferdinando Casini, Gianfiero D'Ali e Gianluca Micicè. Renzi dopo la volata nissena andrà comunque a Palermo dove è previsto un incontro per le 14 per parlare di agricoltura al Teatro Politeama.